Sono Irene Sorani e sono cofondatore e amministratore di H&M, che è una sua startup innovativa che si occupa di cyber security. Sono venuta qua oggi per condividere un progetto con i ragazzi della scuola di formazione aziendale per creare una piattaforma di smart working a sicuro. Dopo il lockdown, molte aziende hanno convertito una parte della propria l'attività, remotizzando la produzione attraverso collegamenti di vario tipo. Questo purtroppo ha creato una fragilità nelle reti di interconnessione e ha fatto sì che alcuni malware e alcuni virus entrassero dentro le reti aziendali. Il nostro obiettivo è andare a sviluppare una piattaforma di connettività sicura che consente alle aziende che intendono proseguire, almeno parzialmente con lo smart working, di non avere problemi di questo tipo. Ho riscontrato un gruppo di ragazzi molto motivati, che sono disponibili e mi sembrano anche piuttosto preparati. Poi avremo modo di approfondire nei prossimi mesi il loro lavoro e spero di potervi essere di aiuto.